Presso IHL Group abbiamo creato un algoritmo a 9 punti per misurare la preparazione all'intelligenza artificiale per i migliori rivenditori di moda. Ciò includeva l'utilizzo di dati che misurano aspetti come la maturità dei dati, la maturità dell'analisi, le dimensioni e il flusso di cassa disponibile. Ecco la nostra classifica dei 5 migliori rivenditori di abilamento migliori posizionati per beneficiare dell'intelligenza artificiale fino alla fine del disegno. Il numero 5 con un punteggio di 47,4 è Tapestry. Numero 4 Macy's con un punteggio di preparazione all'intelligenza artificiale di 47,4 è Sussiund. Ralph Lauren al numero 3 con un punteggio di 48. Al secondo posto Nike con un punteggio di 49,6 e al numero 1 Lululemon con un punteggio di 58,8. Per vedere come questo si converte in vantaggio finanziario visitate ihlservices.com.